salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video anzi in questo nuovo video test in cui oggi proviamo a fare il range test dell'app San Zino la location è la stessa in cui poco tempo fa ho fatto quello del paro Tanafis in modalità CE che in FCC se vi interessa andate a guardare i video magari ve li lascio qua sopra nelle schede quindi stavo dicendo ragazzi adesso lo proviamo in questa location ho portato anche il landing vedete così abbiamo il punto di riferimento di partenza e vediamo come si comporta anche nel return to home sì perché l'app San Zino uno dei suoi punti deboli nella prima prova che ho fatto è stato il return to home dove ha sbagliato veramente di tanto però adesso c'è stato un aggiornamento firmware importante in cui è migliorato tantissimo su tutti gli aspetti nel return to home non l'ho ancora provato lo sto provando adesso con voi dopo l'aggiornamento film perché l'ho provato a livello cinematografico come fotocamera come diciamo controllo in volo come stabilità l'avete visto nell'ultimo video che ho fatto tra virgolette cinematografico e non si è comportato male adesso lo proviamo nel range test e return to home quindi adesso preparo tutto ed ecco con l'app San Zino ragazzi siamo pronti ho impostato la fotocamera 1080 che sono curioso di vedere una cosa mia com'è la fotocamera 1080 giusto per abbiamo 11 satellite in questo momento quindi c'è autorizza a decollare quindi adesso decolliamo su un sasso e mezzo ragazzi un'altra cosa che volevo farvi vedere è l'overing che con l'aggiornamento firmware è sicuramente migliorato adesso ve lo faccio vedere guardate adesso è molto molto più stabile ovviamente non è immobile come un prodotto DJI come un parotanatico come un autelive ovviamente perché non avendo niente sotto che legge il suolo non può rimanere fermo come uno di questi droni ovviamente è impossibile avendo solo il barometro il gps però con l'aggiornamento firmware è veramente migliorato guardate quindi ragazzi andiamo in altezza di 50 60 metri un po come avevo fatto con il la nafi ok siamo a 50 metri quindi adesso partiamo e vediamo il range test di questo absanzino e poi vediamo anche il retour to home di quanto è preciso se è migliorato o meno rispetto all'ultima volta quando l'ho provato che non aveva ancora fatto l'aggiornamento firmware quindi adesso partiamo siamo a 134 metri 146 168 191 215 237 diciamo che adesso sta andando discretamente bene sì la risoluzione video non è un granché a livello di definizione non è un granché neanche quando ce l'abbiamo vicino quindi non è che è peggiore andando lontano non è un granché neanche da vicino non è un hd ripeto ho già detto anche negli altri video secondo me a questo momento non è un hd a livello di definizione video siamo a 498 510 e inizia a sfarfallare un po 559 570 583 595 607 619 630 e non si sta comportando male devo dire che non si sta comportando per niente male siamo quasi a 800 metri ragazzi sì l'immagine è quello che è praticamente non si vede quasi niente fa veramente cagare però si vede ancora nel senso non è bloccata l'immagine e siamo a 900 metri sì l'immagine adesso è veramente indecente quindi come non averla neanche perché veramente non si può vedere sì direi che adesso si è bloccata quindi direi che possiamo fare un return to home ok sta tornando sì diciamo che la risoluzione è scarsa anche quando si è vicini quindi si nota meno la differenza quando ci si allontana perché tanto è già scarsa anche quando siamo vicini sta tornando a 9.57 comunque ragazzi è arrivato praticamente al chilometro prima di bloccarsi l'immagine è arrivato a un chilometro tanta roba quindi sta tornando da noi adesso vediamo il return to home a questo punto comunque è andato a un chilometro di distanza e vediamo adesso nel return to home come si comporta c'è il landing vediamo se quando l'avevo provato vi ricordate nel primo video test era solo un video test giusto fatto così velocemente non si era comportato bene però aveva anche un firmware veramente scandaloso cioè un firmware che non permetteva neanche le regolazioni video per intenderci quindi non aveva proprio secondo me le basi per funzionare bene il drone con quel firmware adesso con l'aggiornamento del 10 dicembre devo dire che è cambiato tanto è cambiato anche nella stabilità di volo nel controllo è cambiato il movimento del gimbal è cambiato tanto è cambiato oltre avere le impostazioni adesso nello smartphone di regolare la fotocamera e tutto che prima manco si poteva formatare la scheda sd cioè veramente è stato secondo me una pecca di habsan far uscire un drone con un firmware così fatto male quindi siamo a 255 246 metri sta tornando 185 adesso lo sento anche è qua sopra è qua sopra vediamo cosa fa come come return to home quindi ragazzi tengo in mano la videocamera sta atterrando mi sposto anche perché vabbè non è che vede non hai sensori sotto che vede se c'è qualcuno sotto se lui deve atterrare in quel punto gli atterra in testa perché non hai sensori che riconoscono che c'è un ostacolo sotto ovviamente però devo dire che stavolta secondo me vedendolo scendere adesso ragazzi ve lo faccio vedere anche a voi vedendolo scendere secondo me se sbagliano sbaglia di poco è ok ormai c'è vediamo di quanto sbaglia eccolo qua lo state vedendo si lo faccio atterrare là ha tagliato un po' l'erba e ha sbagliato di e due metri e mezzo più o meno ha sbagliato ragazzi di due metri e mezzo che voglio dire è anche accettabile se lo calcoliamo che lui è andato a un chilometro di distanza quindi a un chilometro di distanza lui è tornato è atterrato a due metri e mezzo dal landing cioè sia più che accettabile nel senso che non è a livello dei droni più rinomati però ricordiamo che comunque il costo è quello che è e poi solo all'inizio secondo me con qualche aggiornamento può migliorare ancora però diciamo che a due metri e mezzo di distanza dal landing con un chilometro di range test direi che non è andato neanche così male quindi ragazzi recupero l'absanzino allora le mie considerazioni sono che un range test niente male anche se ha una connessione solo a 5,8 gigahertz e non si può switchare a 2,4 però quel 5,8 secondo me è funzionato bene siamo in campo aperto ovviamente come poi l'ho fatto anche per il paro tanafi in campo nel stesso location e diciamo che si è comportato veramente bene ovviamente non si vede l'immagine video che peggiora man mano ci si allontana perché è già abbastanza merdosa sin dall'inizio che non ci si accorge che quando si allontana il drone l'immagine magari diventa più brutta perché è già brutta dall'inizio però magari anche questo lo risolveranno nel senso che avere cioè meglio avere un ritorno video più di qualità nello smartphone e l'altro test che dovevamo fare ovviamente il return to home devo dire che non è stato per niente male l'altra volta ero a 50 metri tornato ma sbagliato di circa 6 metri non mi ricordo una cosa del genere stavolta è andato a un chilometro è tornato e ho sbagliato di circa 2 metri e mezzo quindi assolutamente niente male secondo me un errore di due metri e mezzo quindi ragazzi direi che questi aggiornamenti firmware si sono comportati bene anche da questo punto di vista ripeto è migliorato tantissimo nella stabilità nell'overing è migliorata la terocamera è migliorato il gimbal diciamo che l'aggiornamento firmware attuale veramente gli ha fatto fare uno step in avanti o meglio era quello che avrebbe dovuto avere dall'inizio quindi adesso hapsand può lavorare secondo me ha le basi per lavorare e fare diventare questo drone un ottimo drone richiudibile in questa fascia di prezzo quindi ragazzi adesso prossimamente farò altri video ovviamente dove magari lo testeremo in altre situazioni quindi per adesso devo dire niente male quindi ragazzi come al solito se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video ciao